Il format di queste mostre è fondamentalmente comunicare sul piano culturale e scientifico in modo inicepibile e al tempo stesso poterne presentare attraverso soluzioni tecnologiche avanzate, come in questo caso che abbiamo avuto la possibilità di scannerizzare in scanner 3D alcuni dei capolavori di Canova, mostrarli come normalmente non si possono vedere. Questa è una mostra diversa, Canova non aveva bisogno di essere esposto con opere sue a Venezia, già esiste il Museo Correr, le Gallerie dell'Accademia, qui la mostra è nuova, permette di visionarlo e di scoprirlo in un modo assolutamente diverso, nuovo. Io sono sempre stato un grande amante di Canova, ma soprattutto della spazialità di Canova, dell'architettura canoviana e questa è una testa architettonica costruita apposta per questo grande spazio meraviglioso.